Niente di particolare, mi alzo presto la mattina, non molto volentieri, e poi mangio un piccolo snack prima di mettermi a studiare. Farò ai corsi o quelli nei laboratori, farò un po' nervosi, esperimenti. Ovviamente, mi tocca fare il mio lavoro da studente, quindi lunga sessione da studio. La vita è un po' sedentaria, quindi cerco di muovermi un pochino. Quando la giornata finisce, io ritorno nella mia residenza. Sono molto stanca, ho bisogno di dormire e riposare. Grazie a tutti! Grazie a tutti!